benvenuti a un nuovo episodio della volpe il leone in italia calano i consumi cala l'occupazione cala il pil ma c'è qualcosa che sale quello che sale il numero degli sbarchi di immigrati clandestini sulle nostre coste si preannuncia un'estate di intensi arrivi e numeri record c'è un modo per evitarlo c'è un modo per rispondere a questa situazione abbiamo provato a chiederlo a nicola de felice ammiraglio che anche senior fellow del nostro centro studio di macchiavelli i dati ufficiali del ministro degli interni ci dicono che in questi primi sei mesi del 2020 paragonando le sei mesi dello scorso anno abbiamo già avuto un fortamento degli sbarchi in italia siamo praticamente a tre volte quelli che c'erano state nel 2019 dato che fa sensazione considerando che nel frattempo nel 2020 abbiamo avuto due mesi di lockdown italia tutta chiusa vari ministri che cercano di dissuadere l'ONG dal portare i migranti qui sulle coste italiane eppure comunque un'esplosione dei numeri nel frattempo sappiamo anche che quello che doveva essere il grande successo del governo conte e bis e della ministra lamorgese accordi di malta questo nuovo clima con l'unione europea che permetteva la redistribuzione dei migranti che sbarcavano sulle nostre coste bene abbiamo scoperto dati sottolineati recentemente dalla verità un bello zero di migranti ricollocati in altri paesi europei quindi un fallimento totale la stampa diciamo i medi italiani non hanno dato a questo fallimento la stessa enfasi che diedero invece al proclama cioè quando fu proclamato che sarebbero stati ricollocati i migranti questa discrasia tra la non notizia e invece il fatto reale sicuramente stride ci avvicinano poi l'estate quindi alla fase più calda dal punto di vista degli degli sbarchi cosa ci dobbiamo aspettare per i mesi che vengono beh c'è anche da ricordare se mi permetti il fatto che dei 211 migranti clandestini che io chiamo naufraghi a pagamento perché così sono pagano per essere trasferiti e danno diciamo nutrimento alla tratta degli esseri umani questo va sempre ricordato e dei 211 sbarcati a porto e pedule o comunque portati a porto e pedule che dalla nave si watch ricordo essere battente bandiera tedesca ora non più olandese con un equipaggio tedesco e 28 sono risultati positivi al coronavirus quindi sono stati posizionati eh sul traghetto messo a disposizione da dal ministero dell'interno eh insieme a tutti gli altri gli altri 181 quindi eh c'è una situazione eh eventualmente che sta sfuggendo da dal controllo perché non si può immaginare che in quel traghetto ci siano le precauzioni igienico-sanitarie che ci sono in un ospedale eh diciamo destinato ad essere fulcro eh anti covid diciannove quindi immaginiamo adesso che cosa sta succedendo cioè arrivano migranti eh infettati e noi ce li dobbiamo eh accollare non statessi arrivino a in Europa con il primo passaggio illegale su un territorio che non è quello italiano ma è quello tedesco quindi non si capisce perché non viene coinvolta la Germania e eh l'ambasciatore tedesco a Roma eh per eh affrontare in maniera dignitosa e corretta eh la tematica. Questo ci fa presupporre che la famosa ehm diciamo sbandierata del della fine della politica dei porti aperti che lo stesso governo Conte Tu aveva eh acclamato a inizio aprile in piena in piena emergenza coronavirus anche là è risultato un grandissimo fallimento quindi noi oltre ad aver diciamo ehm eh costretto gli italiani a soffrire in questo periodo eh con grandi limitazioni diciamo personali ma anche etiche e morali adesso ci stiamo eh portando a a casa altri contagiati con il rischio di dover contagiare gli italiani quindi eh io mi aspetto una situazione veramente clamorosa quest'estate perché come tu giustamente hai ricordato abbiamo eh triplicato gli sbarchi secondo appunto i dati del Ministero dell'Interno eh dal primo gennaio ad oggi rispetto all'anno allo stesso periodo dell'anno scorso eh stiamo importando ehm contagiati positivi virus e eh ritengo che come peraltro è successo da precedente esperienza a bordo di navi ricordiamo il caso in Giappone eh il 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 tutti gli altri probabilmente verranno tutti gli altri centottanta migranti e anche l'equipaggio rischia veramente di essere eh contagiato quindi trovo che la situazione sta veramente portando all'esasperazione eh il fenomeno e quindi giustamente gli italiani cominciano un attimo a insomma a dissociarsi spero perché non si può accettare una situazione del genere trovo la situazione veramente eh disastrosa ritengo che eh se si continua così con una posizione debole sia nei confronti delle navi ONG sia e soprattutto dei confronti degli stati di bandiera perché secondo me è lì il punto che dovrebbe essere eh affrontato. E tu hai scritto proprio poco tempo fa eh si trova nel blog del nostro sito www.centromachiavelle.com un articolo eh scacco alle ONG in dieci mosse perché ricordiamolo che poi una parte fondamentale del successo che ha avuto che ebbe Salvini lo scorso anno nel riuscire a eh limitare drasticamente gli sbarchi passò per quel braccio di ferroco ONG che gli è costato gli è costato molto tantissime critiche eh processi lo sappiamo bene che non è solo il decreto sicurezza che ora il governo vorrebbe eh modificare cancellare non si capisce bene ma finora c'è stato e comunque non è bastato da solo a bloccare gli sbarchi c'era anche soprattutto l'azione diretta del ministro dell'interno e tu hai proprio realizzato questo quadro in cui spieghi come con dieci azioni pratiche eh l'Italia potrebbe riuscire a debellare diciamo così queste ONG che alimentano il traffico clandestino di eh immigrati illegali in Italia. Ci puoi spiegare quali sono queste dieci mosse? sì parto comunque dal presupposto che le dieci mosse rispettano sia le norme internazionali che le leggi nazionali e le e le diciamo e le sentenze della Corte Europea per i diritti dell'uomo quindi non stiamo lanciando un decalogo così superficiale o o di o di diciamo basato su su una situazione diciamo di reazione emotiva stiamo parlando di un decalogo che si attiene alle direttive e le e norme nazionali e internazionali. Eh in pratica sappiamo benissimo che su una nave ONG eh battente bandiera facciamo ad esempio quella della Sea Watch oggi tedesca eh lo stato di bandiera è la Germania e perché questo? Perché l'ordinamento giuridico che vige su quella nave in acque internazionali è l'ordinamento tedesco. Quindi nel momento in cui eh una nave ONG si presenta mh nel Mediterraneo centrale e sappiamo bene che la cosa è così eclatante e e tracciabile come lo facciamo noi lo fanno anche i trafficanti di esseri umani eh sanno bene che quando arriva questa nave secondo me l'Italia eh dovrebbe ehm preventivamente richiamare l'ambasciatore eh interessato in questo caso l'ambasciatore tedesco a Roma e ricordargli di attenersi ai alle direttive sia alle norme internazionali quindi alla legge del mare e alla e alle convenzioni per il soccorso in mare sia alle norme nazionali dello stato costiero che può emanare direttive eh diciamo di restrizione di transito di queste navi nelle proprie acque eh territoriali come ha fatto giustamente Salvini e come tuttora è valido con i decreti di sicurezza emanati lo scorso anno. Quindi avvisare l'ambasciatore che si sta che si deve comportare che quella nave si deve comportare secondo le norme nazionali e internazionali. Dopodiché se il soccorso in mare avviene e deve e deve essere eh ci sono gente si deve si deve diciamo soccorrere eh bisogna tenersi alle normative emanate dall'ONU e in particolare quelle che riguardano le cosiddette zone SAR, search and rescue che sono di competenza degli stati dove eh avviene il soccorso. In questo caso nella maggior parte delle delle volte succede in acque libiche o in acque maltesi. Ora e quindi anche qua bisogna ricordare all'ambasciatore che la propria nave perché si tratta anche se non è una nave dello stato ma è una nave mercantina, una nave privata, è sempre l'ordinamento giuridico tedesco che eh in acqua internazionale ha eh va preso riferimento e quindi va ricordato all'ambasciatore che quella nave si deve attenere alle disposizioni che emana lo stato coordinatore del salvataggio. Quindi può essere la Libia, può essere Malta, può essere la Tunisia eccetera eccetera perché i soccorsi eh i soccorsi devono essere portati nel posto più vicino. Perché? Non perché hanno un diritto diciamo di carattere politico o di carattere umanitario del dover del diciamo del profugo ma sono dei naufraghi e quindi vanno portati molto velocemente in un posto dove possono essere diciamo salvaguardati dal punto di vista della vita umana. Quindi se non è Tripoli allora portiamoli a Malta. Se non è Malta allora portiamoli nei posti più vicini che sono tutti quei porti eh tunisini che ho sempre eh accennato sono anche porti eh a quanto sicuri perché eh prima del coronavirus e anche adesso ricominciano nel crociere di migliaia di turisti occidentali che passano e che sbargono in quei porti. Ora se eh se la nave ONG non si attiene a queste regole eh allora eh bisogna bisogna eh bisogna sollecitare sempre la il lo stato di bandiera e quindi l'ambasciatore competente e eh e dire a a all'ambasciatore guarda che il tuo paese essendo membro UE deve rispettare l'articolo tredici del del trattato del regolamento di Dublino che dice appunto che il nel territorio del primo passaggio illegale eh deve avvenire poi eh diciamo la pratica di avvio della protezione ehm del del migrante e quindi è la Germania in questo caso. Se ancora eh non succede questa questa questo questo fatto qui eh ovviamente bisogna prendere dei provvedimenti. La nave non si attiene alle norme internazionali commette un reato internazionale quindi decade l'ordinamento giuridico di riferimento e viene assunto l'ordinamento giuridico italiano per quel caso. Quindi bisogna mandare la nave militare fare il diritto eh previsto dalle norme internazionali divisi da bordo ispezione se si tratta appunto di e si verificano i fatti dai fatti una situazione di irregolarità viene confiscata la nave denunciato e arrestato il comandante tutto l'equipaggio denunciato eh l'armatore e e e quindi eh ovviamente i navi verranno portati in Italia e verranno verranno ovviamente avviati verso i centri di accoglienza ma la nave deve essere confiscata e l'equipaggio eh arrestato. E quindi e poi c'è anche da dire eh per concludere che mh tutta questa attività eh costa non è che noi mandiamo le navi in giro e senza pagare il gasolio o l'equipaggio eccetera quindi previsto anche dal codice della navigazione italiano articolo 34 che tutte queste attività che hanno costretto lo Stato ad intervenire eh deve essere poi risarcito quindi la Germania in questo caso dovrebbe eh pagare le spese che sono state eh sostenute in anticipo dall'Italia per questa attività. Quindi questo era un po' il tecnologo che io avevo lanciato. Sì l'Italia ormai da diversi anni con la parziale parentesi ovviamente del primo governo Conte e quello con Savinia e Viminale è stato ostaggio di questi flussi in cui le ONG hanno avuto un ruolo importante a parte nella primissima fase quella diciamo di 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 Mare Nostrum in cui comunque ci fu questo diciamo lo dico io non voglio metterti in bocca niente ma l'errore di eh impiegare la Marina in un certo modo con poi il risultato di quello che sappiamo il pull factor comunque i traghettamenti ecco non voglio essere offensivo da questo punto di vista però una scelta della politica che probabilmente non non fu in grado di capire a cosa si andava incontro e mise in atto delle strategie che poi si rivelarono deleterie a meno ovviamente che lo scopo della politica fosse quello di raggiungere le cifre astronomiche di sbarchi che si raggiunsero in quegli anni dopo le ONG hanno fatto la parte del leone da questo punto di vista ed è incredibile che uno Stato come l'Italia eh di grande storia di grande carattura economica comunque una potenza eh di 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 livello mondiale si sia ritrovato ostaggio eh con le mani legate eh un po' dalla magistratura interna un po' dal diritto internazionale un po' dall'incapacità o dalla complicità di parti dello Stato stesso della politica di riuscire a ripristinare il controllo della politica e quindi della volontà popolare della legge italiana nel quello come così come votato in Parlamento sui flussi migratori che invece ormai avvengono sostanzialmente in una maniera totalmente fuori dal quadro giuridico tu invece ha delineato un modo come giustamente precisavi assolutamente in linea con quelle che sono le normative internazionali quindi non né un facile slogan invece un piano articolato né un qualcosa che non sarebbe realizzabile o che comunque andrebbe incontro a a uno stilità generalizzata a livello internazionale che potrebbe essere messo in pratica ho dei dubbi che lo vedremo mai messo in pratica da questo governo ma eh l'auspicio è che un governo futuro potrà eh ricorrere all'esperienza che hai tu e l'esperienza che hanno altri per riuscire finalmente ad affrontare in una maniera efficiente e risolutiva questo problema allora Nicola ti ringrazio moltissimo per il tempo che ci hai dedicato grazie alla prossima occasione grazie a te un saluto a tutti